benvenuti su hermes channel web tv oggi parleremo oggi il sai che di oggi parleremo in pratica di una delle tante bellezze della nostra regione san michele di bari sorge nella zona centrale della terra di bari a ridosso dei primi gradini dell'altopiano delle murge in particolare del suo castello il castello caracciolo quindi perché si chiama caracciolo e oggi che funzione ha beh grazie al sindaco e al presidente della proloco dino bianco di san michele che abbiamo avuto questa possibilità di farci spiegare un pochettino le sue funzioni però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale oggi se non l'avete ancora fatto e cliccate mi piace su tutti i video che vi sono piaciuti e se volete mettere nei commenti un video che voi volete vedere che vi può interessare suggeritecelo e noi faremo in modo di tenervi contenti non dimenticate poi la campanellina che vi ricorderà ogni volta che metteremo i nuovi video e se volete sponsorizzare questa trasmissione contattateci e adesso vediamoci il video ciao a tutti oggi siamo a san michele di bari dove grazie al sindaco lorenzo netti alla proloco dino bianco e al presidente giovanni tateo parliamo del castello caracciolo con ingegnere giacomo spinelli storico e presidente del centro studi di san michele di bari e anche con raffaella bianco socia dell'associazione incant adetta alla sorveglianza accolienza e alle visite guidate del museo della civiltà contadina di dino bianco grazie a tutti per averci dato la possibilità di fare questo servizio due parole dal primo cittadino di san michele grazie a voi buona giornata e come appena annunciato san michele oltre alle tante bellezze ospita questo meraviglioso castello che il nucleo fondante del centro storico che ha nel suo diciamo al suo interno il museo della civiltà contadina che è una raccolta di reperti di tradizioni questa comunità gelosamente custodita da tutti noi e che offriamo alla al pubblico in queste giornate in cui il museo aperto c'è sabato pomeriggio domenica mattina grazie grazie a voi adesso la parola al presidente della proloco giovanni tateo buongiorno benvenuti a san michele di bari e benvenuto all'interno di questo nostro castello adesso noi abbiamo anche interpellato uno storico che ve lo presenteranno fra poco che vi dirà tutta la storia relativa alla questo castello e al primo nucleo abitativo di questo nostro paese grazie giovanni grazie a voi chiediamo a raffaella come visitare il museo in dettaglio allora il museo della civiltà contadina è aperto il martedì mercoledì e venerdì dalle 8 e 30 alle 13 e 30 mentre nel fine settimana ci sono io il sabato dalle 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 13 è possibile appunto giungere al museo è possibile anche usufruire di visite guidate che faccio personalmente in più se qualcuno vuole qualcosa di particolare possibile prenotare ed effettuiamo visite guidate in costume cioè personalmente mi vesto da contessa e realizziamo al secondo piano delle infodegustazioni offrendo dei prodotti tipici appunto della nostra tradizione inoltre la mia associazione incant si avvale anche della collaborazione di una cooperativa sempre che ha sede a san michele di bari iris dove appunto offriamo visite guidate per turisti visite guidate anche per studenti e in più laboratori didattici per ragazzi di tutte le fasce d'età quindi facciamo laboratori per i più piccolini relativi a fiabe cioè si raccontano delle fiabe sul sul castello e anche dei laboratori sensoriali per esempio sulle emozioni gestito da una marionetta da marionette che accompagnano i bambini alla visita del del museo della civiltà contadina grazie raffaella grazie a voi vi aspetto venite a trovarci e adesso la parola giacomo per qualche cenno storico giacomo quando e perché nasce il castello questo castello nasce nella prima metà del quattrocento come avamposto di difesa nel territorio in un momento storico in cui c'è un conflitto tra le tu le truppe del principe di taranto gianantonio orsini del balzo e jacopo caldora per la successione al trono di napoli da cosa deriva il nome oggi è conosciuto come castello caracciolo dal nome dell'ultimo feudatario punto la famiglia caracciolo precedentemente caracciolo avevano ricevuto dalla famiglia de ponte che a loro volta l'avevano ricevuto dai vats una famiglia di ebrei portuguesi in particolare michele vats che fu anche il fondatore del centro abitato di san michele le prime notizie ufficiali però risalgono aeronimo centurione un banchiere genovese trasferitosi nel nostro territorio e prima ancora alla famiglia acqua viva ragona di conversano come si è evoluto nel tempo il castello questo territorio era conosciuto come territorio delle quattro miglia perché equidistante appunto quattro miglia dei comuni vicini di gioia acqua viva casa massima e turi quindi ai tempi di gianantonio orsini del balzo fu un avamposto di difesa poi diventò una casa ad uso agricolo ai tempi di vaas e de ponte per assumere l'aspetto odierno all'epoca della famiglia caracciolo che ne fece appunto un posto di villeggiatura dandogli l'aspetto fiabesco con le torri merlate qual è la funzione attuale del castello dopo essere stata una casa di villeggiatura all'epoca della famiglia caracciolo diventa anche municipio di san michele scuola e oggi museo della civiltà contadina intitolato al suo fondatore dino bianco speriamo che i suggerimenti di giacomo spinelli vi siano stati utili e vi siano piaciuti a proposito giacomo ma perché si chiama san michele con due m all'atto della sua fondazione da parte di michele vaas il paese fu chiamato casa vaas poi per una serie di motivi fu cambiato immediatamente diventando casale san michele nei primi due tre decenni dell'ottocento una cattiva abitudine degli impiegati del municipio di san michele fu quella di cominciare a scrivere san michele prima con la m maiuscola e poi accorpandola al san diventò quindi san michele tutto attaccato e anche san michele con due m con l'unità d'italia i piemontesi decisero di ufficializzare il nome in san michele ma poi siccome di san michele con due m in italia c'erano chissà quanti per distinguerlo dagli altri ci misero pure di bari grazie a tutti per questa intervista grazie a tutti voi sai che può interessare o coinvolgere anche te grazie a tutti grazie a tutti